Ben ritrovati i progetti pilota per la trasformazione digitale e la didattica orientativa nelle istituzioni scolastiche presenti nella provincia di Ascoli Piceno. Ascoltiamo le parole di Cinzia Pettinelli, dirigente scolastico dell'Istituto Comprensivo Don Giussani Monticelli. Grazie per l'opportunità. Questo progetto nasce in collaborazione con l'agenzia formativa Techform in risposta ad un bando della Regione Marche. L'obiettivo del progetto, che è un progetto dalla durata di 18 mesi, è quello di rinnovare le pratiche didattiche in uso nella nostra scuola, nello specifico, ma poi speriamo anche nelle altre scuole del nostro territorio, attraverso anche l'implementazione di quella che è la didattica orientativa e digitale, ovvero attraverso l'utilizzo di strumenti digitali e di un ambiente digitalmente evoluto, consentire alle strategie didattiche ordinari e soprattutto frontali di rinnovarsi e quindi diventare più collaborative, più personalizzate, più individualizzate, al fine appunto di dare ai nostri studenti le risorse per, come dire, valorizzare talenti e predisposizioni che a spesso e volentieri nella scuola non vengono appunto valorizzati. Questo progetto ha questo obiettivo, consentire a tutti i ragazzi di avere un percorso scolastico e professionale in linea con le proprie predisposizioni, ma anche in base a quelle che sono le esigenze di un mondo sempre più complesso e sempre più liquido.